Life of Sandro, movie of my life Sandro Tognazzi, il film sulla mia vita, puntata 2, la mia infanzia Si isola per breve tratto una piccola arteria renale Previo controllo della presenza di flusso retrogrado si procede alla legatura Si isolano infine le arterie iliache comuni nel loro tratto prossimale Previo controllo della presenza di flusso retrogrado